Ben trovati con lo spazio a cura di Meteocalabria.net. Persiste un tempo tutto sommato stabile, salvo locale e temporanea variabilità, rilegata per lo più alle aree interne nel corso del pomeriggio. Temperature senza particolari variazioni. Domenica 7, poco o parzialmente nuvoloso ovunque con addensamenti più consistenti al pomeriggio nelle località interne della Calabria centro-meridionale. Qui non ci sentiamo di escludere locali e provvisori fenomeni. Venti inizialmente moderati da nord sullo Ionio, poi tententi a disporsi dappertutto di direzione variabile, in genere di debole intensità. Mari poco mossi, mosso solo il basso Ionio. Condizioni quasi invariate per lunedì 8 marzo. Poco da segnalare se non qualche locale disturbo al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Venti da sud est. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento.